Ok, benvenuto. Oggi sono qui per presentarti il nuovo webinar che terrò su Zoom, sulla piattaforma Zoom, dove ci possiamo vedere, possiamo poi fare delle domande, posso accompagnarti attraverso degli esercizi pratici, così da poter entrare dentro di te e sciogliere tutte quelle cose che ti stanno limitando nella tua crescita personale e anche spirituale. Appunto il prossimo webinar che sarà il 26 maggio alle ore 20 è il primo appuntamento su risolvere i problemi. Il tema quindi sarà per un mese intero attraverso tre dirette, faremo degli esercizi pratici, avrai dei programmi da applicare a casa e quindi la possibilità di interfacciarti anche con me per poter avere un supporto, un confronto e quella giusta direzione, quel giusto orientamento che ti permette di avere successo nelle pratiche e nello svolgimento di quelle cose che avrai da fare nella tua quotidianità. Sono certo che anche tu, come me e come tante altre persone, ti rendi conto che per crescere bisogna avere una direzione, comprendere se stessi, riuscire a risvegliare quella capacità di osservarsi e di riconoscere ciò che è vero e ciò che non lo è. Quindi discernere l'illusione dalla verità. Sono certo di farti cosa gradita. Ci vediamo al prossimo webinar. Per iscriverti vai sul mio sito www.ariar.it Grazie a tutti e a presto.